Il suolo sigillato è un pericolo assolutamente per gli effetti che può avere nei confronti poi di questi eventi eccezionali che poi alla fine non sono poi così eccezionali se andiamo a vedere spesso e volentieri il cambiamento climatico è diventato quasi un alibi diciamocelo perché se riflettiamo attentamente sulle scelte sconsiderate che sono state fatte circa l'utilizzo del territorio urbano sulla scarsa attenzione che abbiamo avuto nella pianificazione dell'uso del suolo beh forse ci rendiamo conto che spesso e volentieri i danni che subiamo ce le siamo anche un po' procurati con la nostra incuria e con la scarsa attenzione a determinate caratteristiche che di per sé il suolo ha perché il suolo offre dei servizi ecosistemici fondamentali e importantissimi tra i quali li vedete qui rappresentati abbiamo sicuramente quello della regolazione delle inondazioni sempre che ovviamente il suolo venga rispettato e venga mantenuto nel suo naturale naturale profilo il suolo non deve essere considerato soltanto come una superficie da calpestare o una superficie da coltivare ma deve essere considerato nella sua caratteristica tridimensionalità nella sua caratteristica di essere composto diciamo da strati orizzontali che hanno un ruolo molto importante che sono costituiti da sostanza organica che sono costituiti da anche da minerali che se mantenuti nel corretto equilibrio che è poi quello naturale assolutamente ci regalano dei servizi importantissimi e invece che cosa abbiamo fatto? ovviamente per esigenze anche urbanistiche per esigenze legate a quello che è diciamo la necessità di vivere sempre più vicino ai posti di lavoro eccetera ci concentriamo in queste megalopoli che poi sono sigillate dall'asfalto quindi il